Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Frecciapotente e oggi stiamo su HappyQuilz e accompagnati di Papi Freccia e ringrazio mio figlio Frecciapotente di avermi fatto questo regalo e a conoscervi tutto, è bella ragazzi è un regalo che gli ho fatto, è un bel regalo che ti ho fatto allora ragazzi voglio dire prima cosa di cominciare di cominciare di cominciare è stato istituto, io sono noto allora che martedì dobbiamo fare la parodia con Ciro Leggendario ragazzi almeno per questo video voglio tre mi piace e faccio un altro video, è vero babbo? forse forse allora, allora, siamo su HappyQuilz parto prima io Happy Green, cominciamo con questo taggo un pochino raga ok ragazzi stiamo con uno che papo come si chiama questo oggetto? è cosi no? mmm un poco? no questo gioco è difficile mi sembri più uno scemo lo panaro aspetta ok raga andiamo raga papà faccio un tentativo io un po' di tentativo se vengo io andiamo ad un altro livello ok raga voglio queste docce ok raga come fa grazie libertà mi sono spezzato la gamba semplice bel volo bel volo ok ragazzi secondo voi sono morto? non lo so, chiedo ok ragazzi ci rinuncio a questo livello non ha neanche un mini po' di senso adesso fai tu qua come si fa? devi allora raga aspetta vi spiego un attimo a mio padre come si gioca ok raga papà che vuoi scegliere? non è uguale ok mi ha insegnato come si gioca raga perché io ho imparato agio si fa la bici non può tornare sempre giù giù scendo 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 raga questo scusatemi se vado così ma è la prima volta che ci gioco in questo gioco credo che sarà l'ultima perché questo gioco adesso farò un capitombolo che mi spezzerò tutte e due le gambe non una sola nooo ragazzi questo video sarà un po' accorto perché è solo un tutorial allora andiamo con show mutanin final ma che cos'è io ho visto ho visto di tutto nella mia vita aspetta come si come si raga questo livello è troppo difficile non solo gioca è la prima volta che ci gioca se volete che volete allora satan questo trappac trac trappac trac vediamo è veloce però così io non so giocare mi sono spezzato la gamba di nuovo semplice ok raga ok raga andiamo veloce raga taggo un pochino questo gioco non fatemi domanda ma taggo un pochino vinciamo vinciamo raga non ne sono convinto vinciamo questa volta è volato il casco senza tasco noi siamo siamo ufori si di qua ok vediamo a che cazzo sto giocando ok vai vai mi sono spezzato in un braccio questo braccio ok spio no abbiamo preso un quadro un quadro abbiamo preso raga io non so giocare è la prima volta che gioco vabbè la prima volta mo gioca a mio pare questo livello era troppo difficile andiamo con top swing vediamo che cosa si tratta se gioca a babba questo gioco lo vediamo fammi giocare un attimo ok mamma abbiamo partito di merda vedi che sto a giocare raga facciamo l'ultimo tentativo poi aspetta no 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 aspetta raga io ho un trucco che freccia poter spezzati bravo filmati raga questo livello raga questo livello mio padre non lo sa fa questo livello è troppo difficile andiamo con l'ultimo raga e poi concludiamo perché come vi ho detto è un è un è un è un tutorial andiamo andiamo con la cicciona dai cicciona credo raga che non si può usare credo raga che non si può usare allora andiamo con il padre e con il figlio ok luce piano 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 non devi perdere il figlio perché se no non sei un padre tu diri che però tu devi sopravvivere ok siamo è morto pure il ok è grandissima per la vaga sull'estate ok ragazzi facciamo l'ultimissimo livello per concludere vediamo qui perché non abbiamo raga non ne abbiamo fatto neanche uno giusto se questo qui non ha neanche un neanche un mi piace vi capisco veramente raga su questo qui e poi concludo perché ciao zio non sono neanche partito raga no è la cosa ho messo ma che scusa che cosa sta succedendo ok ok concludiamo con una bella frittata a terra ok ragazzi conclude il proprio fritto raga ragazzi io me ne vado mi ha fatto un piacere enorme conoscervi e mettete un sacco di mi piace a questo video se vi è piaciuto se non vi è piaciuto ma una buona domenica a tutti bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bello bella